Dopo anni di annunci, il trasferimento del RIS nei nuovi locali presso la ex sede dell'Intendenza di Finanza diventa realtà. Salvo imprevisti, il 18 dicembre potrebbe infatti esserci l'inaugurazione. In questi giorni è stata frenetica l'attività di trasloco che ha visto impegnato tutto il personale. Nei nuovi locali sono infatti state trasferite tutte le attrezzature e macchinari che consentono ai militari del RIS di effettuare tutti gli esami e le analisi sui reperti raccolti sulla scena del crimine. Per inaugurare la nuova sede si pensa appunto al 18 dicembre. In questo modo a stretto giro uno dall'altro si troveranno a comando provinciale Culcolber, la questura con i suoi principali uffici e la DIA.